Sì, andate avanti, me l'avevano detto che a Torino erano pazienti, due cose mi hanno detto, sono molto pazienti e comprano il cd, questa è una cosa che mi hanno detto e so che lo confermerete, tra l'altro questo fatto del cd è una cosa che mi dà un po' fastidio, non mi piace farlo durante lo spettacolo, è una cosa che trovo molto antipatica, quindi stasera non vi dirò che vendiamo cd, lp, magliette e qualche altro a un banchetto che è lì, quindi è una cosa fastidiosa, non la faccio e non la farò. Il prossimo è un brano che ci porta, visto che siete caldi, ci ha fatto paragonare a gruppi come i Cannibal Corpse ma anche come gli Slayer, è un pezzo che noi facciamo con doppia cassa, fai sentire Massimo? Non me la fa sentire, che facciamo anche senza batterista, così come i prossimi concerti, se non mi fa la doppia cassa, ecco vedo che la fa, e anche con le doppie bacchette che è una cosa particolare che facciamo soltanto noi, un brano che ci ha un pochettino legato a gruppi anche come i Clash, ma perché no, anche come i Sonora, ed è un brano per i metallari per cui per favore alzate le corna quantomeno per insultarmi, ok non vi vedo ma ci credo, e il brano comincia così come un classico brano metal, deve cominciare. 1, 2, 3, 4 Che cos'è quest'ansia, che mangia la pancia, che cos'è che manca, forse un conto e manca, Quello che voglio, è vivermi meglio, ah ah ah, di così, sarà, 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 di così, sarà, 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ho lasciato i sogni, chiuso in me l'armadio, che dentro al cassetto non ci stanno più, Quanto che voglio, è vivermi meglio, ah ah ah, di così, sarà, sarà, è via di così, sarà, è via di così, sarà, è via di così, sarà, di così, sarà, è via di così. Di così, sa la la, sa la 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 Di così, sa la la, sa la la Di così, sa la la, sa la 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 Di così, sa la 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 Di così, sa la la la, sa la 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 Di così, sa la 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 Grazie!